Il passaggio a Cleos mi ha consentito di concentrare e il lavoro e le informazioni relative alla pratica in un unico ambiente in cui non solo svolgevo il lavoro ma inserivo informazioni dettagliate circa l'attività svolta, il rinvi di udienza oppure le scadenze relative al singolo fascicolo con la ulteriore facilità che io potessi in tempo reale verificare lo stato di una pratica, quante attività e quale attività avessi svolto per la singola pratica, quale fosse da svolgere, quale fosse in scadenza. In particolar modo ho visto proprio cambiare la vita dei miei collaboratori i quali precedentemente all'introduzione del Cleos viaggiavano con trolley più o meno pesanti da casa allo studio o dallo studio al tribunale e invece oggi sono in grado di reperire tutti i documenti relativi a una pratica, voluminosissima o meno che la stessa sia, semplicemente con un banale accesso dal proprio pc o addirittura dal proprio telefonino. Questa possibilità che il Cleos ha dato ha reso molto più fluide le procedure interne e soprattutto molto più facile per i collaboratori qualsiasi sia l'imprevisto che capita da un giorno con l'altro di poter tranquillamente lavorare da dovunque essi si trovino senza avere necessità di avere il proprio fascicolo cartaceo con sé. Ogni documento che mi viene presentato dall'assistito viene digitalizzato e direttamente inserito all'interno della pratica attraverso una funzionalità di Cleos. In tal modo non corro il rischio di perdere la documentazione e in ogni caso ho sempre la pratica completa, ovunque io vada e questo anche grazie all'applicazione mobile. Avendo uno studio individuale, Cleos ha portato numerosi benefici alla gestione dello studio e lo considero ormai il mio alter ego digitale che mi permette di avere una visione complessiva della pratica che spazia dalle scadenze alla fatturazione passando per la redazione degli atti.